Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno e benvenuto nei nostri studi a Fabio Potocznik, segretario della FIALS. Buongiorno, buongiorno. Grazie dell'invito. Grazie a lei per averla citata in una giornata festiva. Allora io ho fatto rivedere insomma un servizio che abbiamo realizzato ieri nel nostro telegiornale proprio relativo alla sanità proprio per introdurre un po' quelli che sono gli argomenti di cui parleremo soprattutto in questa prima parte della mattinata. Abbiamo visto che l'assessore Riccardi ha incontrato appunto gli ordini delle professioni infermieristiche, quelli regionali, non c'era Trieste, poi magari ne parleremo anche di questo. Ha parlato dei lavori di Cattinara che è un po' il tema insomma che occupa tutte le notizie in questo periodo dal punto di vista della sanità triestina e poi di questo taglio dell'1% per quanto riguarda poi i costi del personale che pare insomma verrà superato in qualche modo. Quindi andiamo un po' con ordine. Partiamo da Cattinara direi, questo stop al cantiere dell'ospedale principale della nostra città. Innanzitutto buongiorno a tutti. Questo problema di Cattinara è un problema preoccupante perché veramente noi ci aspettavamo delle soluzioni più veloci, più immediate, ma la situazione sta degenerando un po' con il perdere dell'appalto di una società che dovrebbe essere sostituita delmeno da quanto ci dicono le ultime notizie. Abbiamo questo mostro di cemento che ha bisogno sicuramente di una ristrutturazione, però stiamo assistendo a questo stop che preoccupa tutti, voi gli operatori perché sono stati costretti diciamo in qualche modo a restringere i loro campi di azione, le loro attività in spazi più ristretti visto che sono stati già svuotati cinque piani di una torre per cui tutto quello che in qualche modo si era, quegli spazi erano utilizzati sono stati compressi in tutte le altre zone. E quindi si lavora in situazioni di disagio. Sicuramente anche i percorsi sono stati modificati perché basta vedere la zona da antistante, insomma il piazzale è un cantiere per cui anche i cittadini devono essere, per passare hanno delle grosse difficoltà, devono fare giri piuttosto lunghi, il problema è che non abbiamo prospettive positive e a breve termine, parliamo di lungagini molto lunghi. Ci sono delle varie ipotesi, quelle migliori e quelle peggiori, però comunque anche le migliori non sono immediate, sicuramente. Infatti, e questa è la grande preoccupazione un po' di tutti gli operatori del settore, dell'assessore stesso, lo esprimeva bene anche ieri nell'intervista. Uno dei punti che ha toccato anche è la riorganizzazione del pronto soccorso, che è uno dei punti più critici perché evidentemente è il cantiere di Trieste, ormai perché ci sono un paio, più di 100 milioni, 140 milioni, è un cantiere importantissimo, è evidente che la gara al massimo ribasso dà questi risultati, poi le società devono in qualche modo rivedere anche i costi di questa opera e sono intervenuti con una richiesta di incremento dell'importo, si parla di 20 milioni, poi ci sono delle problematiche relative all'approvazione del progetto, insomma ci sono tanti aspetti che sicuramente i tecnici stanno lavorando, hanno lavorato e se c'è qualche problema evidentemente non può essere accantonato o non considerato, va considerato e questo è probabilmente il motivo dello stop dei lavori. Verissimo, lavori che appunto sono al momento in stallo, in totale stallo e il nodo principale dicevamo prima è proprio la questione del pronto soccorso, non l'unico ma quello forse di maggiore impatto poi sulla fruizione anche da parte dei cittadini, degli utenti. ragazzi, cosa si sta facendo per risolvere questa situazione di emergenza, vi convince il piano che si sta preparando, è stato preparato dalla direzione sanitaria? È proprio a proposito, ci è arrivata ieri una convocazione che il 2 di maggio, al mattino del 2 di maggio siamo stati convocati dalla direzione della Suiz, proprio per illustrare il piano riorganizzativo del pronto soccorso, ricordiamo che il pronto soccorso è nato per un bacino d'utenza che si aggirava sulle 100 persone, oggi superiamo i 200, per cui è evidente che gli spazi, la logistica, la struttura è inadeguata e mostra tutte le sue pecche ogni qualvolta ci sia un accesso magari un po' più maggiore che vede questa situazione nei triage, nei corridoi dove sono tutte queste persone in barella che aspettano in maniera proprio non sicuramente ottimale, soprattutto nel triage dove ci sono anche a volte 2-3 file di barelle, non vediamo neanche un'adeguata sicurezza nell'approccio assistenziale e poi questo modo di operare sicuramente non dà né per gli operatori che vivono questa tensione, per i cittadini una sensazione di presa in carico, dà una sensazione di attesa, un accantonamento della persona ma in realtà sono queste le situazioni che sono legate anche a questa situazione logistica. La proposta che ci è stata in qualche modo anticipata per le vie brevi potrebbe essere quella di sostanzialmente niente di nuovo ma di riaprire qualche posto letto presso la medicina d'urgenza che si trova al sesto piano, chiusi circa un anno fa, sono stati chiusi dei posti letto per ridurre i posti della medicina d'urgenza che ci sono state anche polemiche in tal senso, oggi si prospetta la riapertura di alcuni posti letto, visto che la struttura della medicina d'urgenza e del pronto soccorso fanno parte di un'unica unità dove il direttore attuale o responsabile è il dottor Cominotto che è arrivato da poco da Gorizia e intendono, da quanto ci è stato detto, di riaprire qualche posto e assegnarlo come osservazione temporanea, questo sostanzialmente non è che cambierà tanto da quanto succedeva un anno fa perché avendo più posti in medicina d'urgenza avremo le stesse condizioni di circa un anno fa, non c'è una novità almeno di quella che adesso aspettiamo il 2 che sicuramente attendiamo. Vedremo le novità infatti, proprio l'assessore annunciava appunto a breve una maggiore definizione proprio dei dettagli di questo piano di diagnosi. Sappiamo che la sanità è un argomento che è messo sempre in discussione in campagna elettorale fra forze politiche e questo è sempre un terreno di scontro. Auspicchiamo che non diventi, che non sia più un terreno di scontro ma diventi un terreno di discussione costruttiva perché anche fra opposizione e maggioranza ci possa essere una linea che guardi gli interessi primari del cittadino, che sono anche quello della salute e che dimentichi tutte queste diatribe continue fra maggioranza e opposizione, fra destra e sinistra, ma che parli di risoluzioni della sanità perché di questo abbiamo bisogno di avere una prospettiva positiva in questo. Il problema di Catinara non nasce da questa giunta sicuramente. Chi ha fatto negli anni precedenti ha fatto delle scelte, la scelta secondo me è poco comprensibile di ristrutturare Catinara in maniera, quando è operativo, cioè con le persone dentro, con gli operatori dentro, questa è stata una delle scelte veramente che sta dando i risultati che sta dando perché evidentemente le difficoltà sono enormi, per cui già chi ha fatto queste scelte qua ha fatto una scelta che ha condizionato un po' tutto e questi sono i risultati, per cui sappiamo che la politica in tutte le sue fasi è cambiata negli anni, però adesso credo che sia ora di finirla di parlare esclusivamente di destra e sinistra, chi ha fatto prima e chi ha fatto dopo, facciamo tutti un discorso complessivo e costruttivo in modo tale da dare delle risposte ai cittadini di Trieste, perché Trieste ha bisogno di un ospedale efficiente, non si può parlare di fuga dei pazienti in altre sedi quando ci si presenta in un ospedale come Catinara, perché effettivamente ha tutte le sue pecche, insomma tutte le sue criticità strutturali deve essere rimesso nuovo e chissà quando. Poi il discorso della, come si diceva prima, abbiamo ristrutturato il maggiore e forse potrebbe essere utilizzato in modo magari diverso o utilizzarlo maggiormente, perché la struttura del maggiore è in gran parte ristrutturata ed è anche più funzionale ed è bella, in centro città abbiamo un pronto soccorso che secondo me è sottoutilizzato, pensare di deviare alcune attività di accesso al pronto soccorso invece che a Catinara, di ruotarli al maggiore, questo potrebbe dare, alleggerirebbe i carichi di lavoro anche di Catinara e bisogna capire se questa prospettiva o questa riorganizzazione prevede anche un coinvolgimento della struttura del maggiore, ci auguriamo perché effettivamente ci sono stati spesi una trentina, se non più di milioni per ristrutturare, abbiamo fatto questo polio tecnologico stupendo, però insomma è inutile tenere là per fare alcune cosine, cerchiamo di utilizzarlo nel migliore modo possibile, perché l'obiettivo è quello di abbiamo due ospedali, utilizziamoli fino a quando anche il pronto soccorso nella legge di riforma della Serachiani era previsto che il pronto soccorso del maggiore fino al completamento dei lavori rimanesse un punto di accesso per i cittadini, per cui insomma è importante che questo venga confermato e soprattutto potenziato, ecco questo sicuramente. Il fatto del taglio dell'1% che non viene più applicato all'interno delle aziende porterà un beneficio, giusto per positivo, le faccio presente che non era una nostra così contrapposizione a questa scelta dell'assessore, noi abbiamo criticato questo taglio perché siamo consapevoli di quello che comportava questo, basti pensare che pochi giorni fa, l'altra settimana la suite per esempio ha emanato un decreto interno dove definisce il percorso dell'attività dell'anno 2019 e specificava che non era nelle condizioni di raggiungere questo obiettivo del taglio dell'1%, che significava ridurre di 48 persone complessivamente il numero delle persone e dei dipendenti nell'anno 2019, questo è scritto nero su bianco da parte dell'Asui che non riesce a garantire questo obiettivo che 48 persone sono troppe, che comunque l'Asui deve garantire i livelli essenziali di assistenza e pertanto non è nelle condizioni di farlo, che se tutto andava bene riuscivano a tagliare di 10 persone, capisce che quello che noi dicevamo è una conferma di quello che sta, per cui non è che ci si confronta per criticare a vuoto, siamo consapevoli di quello che può succedere e l'Asui ha confermato questa situazione, che poi siamo vicini alle ferie estive, sappiamo già i colleghi di tutti i reparti, di tutte le strutture, la difficoltà che hanno a garantire quotidianamente le attività, perché siamo comunque nell'ordine dei limiti minimi del personale all'interno delle strutture, perché abbiamo sempre delle difficoltà enormi, i colleghi sono chiamati a fare doppi turni, a rientrare delle ferie, non hanno la possibilità di partecipare a corsi formativi obbligatori, perché di fatto tutte le professioni infermieristiche e le altre professioni hanno l'obbligo della formazione continua, in più delle volte chiedono la giornata per formarsi, non viene data perché se no non c'è chi garantisce l'assistenza, per cui la situazione non è tanto semplice, con questo taglio sicuramente si complicava maggiormente. Speriamo che venga attivata quanto prima, perché così diamo la possibilità anche di assumere direttamente il personale, abbiamo delle graduatorie, dei tecnici di radiologia, di laboratorio, dove possiamo iniziare ad attingere e assumere a tempo indeterminato e stabilizzare le persone che noi stiamo lavorando. Poi abbiamo le assunzioni degli infermieri che vengono assunti adesso tramite l'agenzia interinale, sono stati assunti quasi una ventina se non più, per cui in questo modo cercheremo di avere un personale fidelizzato anche all'azienda. E' chiaro, anche questo è un discorso molto importante. E' auspicabile che il discorso del passaggio dal pubblico al privato non aumenti, ma rimanga tale. E soprattutto non è che non ci sono soldi, soldi ci sono, perché consideriamo che costa più di 2 miliardi la sanità in regione, soldi ci sono. Bisogna vedere di spenderli nel miglior modo possibile. E poi se parliamo dell'organizzazione del pubblico, se in qualche modo si va a ridurre l'offerta della sanità pubblica, è evidente che il cittadino per curarsi deve rivolgersi a chi fornisce, ed è il privato o il convenzionato come ricordava il telespettatore. Noi dobbiamo garantire una efficiente sanità pubblica, questo è l'obiettivo della politica sicuramente, ma anche di tutti quelli che possono contribuire a migliorare questa situazione che oggi come oggi ha dei problemi. Io lo chiamo per avere delle delucidazioni inerenti al NUE. Lei sa che la sanità pubblica e eventualmente ci sono anche dei svolti di emergenza e nel introdurre un anello alla catena di emergenza è una cosa controproducente. Io vorrei sapere il NUE alla fine cosa serve, nel senso io chiamo il NUE con le mie generalità, espongo le problematiche e poi mi aspetterei che qualcuno, che il NUE, l'operatore del NUE mi mandi la cavalleria, non di dover parlare con la mia volta l'operatore del 118, con la mia volta l'operatore del 112, con la mia volta i carabinieri, perché altrimenti è una cosa inutilissima. Quindi vorrei una risposta, perché poi volevo continuare. Cosa serve? C'è un fine statistico. Capito la sua domanda. Sul NUE 112, il numero unico dell'emergenza, dice a cosa serve e poi torna un po' sulle quelle che sono state individuate in passato anche come inefficienze di questo sistema, in sostanza. Cosa risponde il nostro telespettatore? Allora noi come organizzazione sindacale, la FIAS, COMSA, che ho l'onore di rappresentare, abbiamo denunciato fin dall'inizio dell'attivazione del 112 tutte le problematiche che avevamo riscontrato grazie al contributo dei nostri colleghi che lavorano alla centrale operativa della Sores, che è a Tigua, nel stesso palazzo dove si trova il 112 a Palmanova. Abbiamo una centrale operativa dell'emergenza sanitaria e noi abbiamo annunciato tutte quelle problematiche che avevano la necessità di essere affrontate prima ancora dell'attivazione. Purtroppo è stata attivata questa modalità operativa, non era sicuramente efficiente fino all'inizio, ma ancora oggi ci sono dei problemi. È evidente che se prima non esisteva il 112, ma la chiamata era diretta al 118, al 115, al 112, a seconda della criticità sia sanitaria o di sicurezza che poteva, o di un incendio che si chiamava direttamente i pompieri, oggi bisogna passare attraverso questo 12. È un passaggio in più, è evidente che è un passaggio in più, per cui i tempi secondo noi si allungano sui tempi che prima non era necessario passare attraverso due telefonate. Oggi noi abbiamo fatto una nota all'assessore, dove parlavamo anche del problema della geolocalizzazione. Abbiamo scritto in febbraio, l'assessore non si è ancora degnato, di darci una risposta ufficiale, se non attraverso le pagine dei giornali o qualche Twitter o qualche messaggio su Facebook, ma sappiamo che questo è uno dei problemi che vivono i colleghi della Sores, ma non è solo questo il problema. Infatti abbiamo chiesto al direttore dell'Arx, Zavattaro, che è il dottor Zavattaro, un incontro, ma con tutta calma l'incontro lo avremo appena il 15 di maggio. Evidentemente sono tutte problematiche che noi riteniamo importanti, ma non sono talmente importanti, visto che è circa un mese che aspettiamo questo incontro richiesto da CGL, CISWIL e FIAS, per cui è un incontro unitario. Attendiamo il 15 di maggio per capire il confronto, se porterà a qualcosa di positivo. Nel frattempo sappiamo che l'assessore ha deciso di incontrare un'organizzazione sindacale sempre sul discorso della Sores, evidentemente l'assessore ha diritto di confrontarsi con chi ritiene più opportuno sicuramente, ma dimenticare un'organizzazione sindacale, le organizzazioni sindacali che sottoscrivono i contratti e che chiedono degli incontri e non rispondono nemmeno sicuramente non è educazione, almeno nei nostri confronti. Allora credo che ci debba essere un'equità nei rapporti, perché le pari opportunità dobbiamo averle tutti, avere la possibilità di confrontarci e forse qualche volta possiamo anche dare qualche suggerimento a qualche criticità per risolverla. Per cui auspicchiamo nel suo ascolto e soprattutto nelle sue risposte. Abbiamo riscontrato che ci sono delle criticità tra il NUE, la Sores e il sistema che è stato messo in piedi, le abbiamo denunciate all'assessorato, le abbiamo denunciate alla loro direttore dell'Arc, adesso si chiama Arcs, il direttore Zavattaro le abbiamo denunciate, siamo in attesa di un incontro, non possiamo sederci e parlare da soli, dobbiamo avere l'interlocutore che ci convochi. Noi abbiamo un'evidenza di emergenza nel confronto, evidentemente se ci danno l'incontro al 15 maggio hanno delle valutazioni diverse da quelle che abbiamo noi. Ci dispiace per chi lavora all'interno della Sores soprattutto e per i cittadini che possono avere degli scontri magari non ottimali, perché basti pensare come devono lavorare un infermiere, come devono lavorare gli orari, la mancanza di diritti, cioè veramente sono i laureati più distrattati e se possono e trovano qualche soluzione alternativa all'Italia vanno dove devono condizioni migliori. Auspicchiamo che proprio c'è stato l'incontro con l'assessore da parte dei… Era proprio ieri con gli infermieri. … dei presidenti degli infermieri e auspicchiamo che anche proprio i presidenti degli infermieri si interessino alla qualità del lavoro che svolgono questi professionisti come gli infermieri, perché adesso hanno un ordine, sono diventati, non sono più collegi o altro, ma sono degli ordini e auspicchiamo che si interessino anche alla qualità del lavoro che un infermiere è chiamato a svolgere, che può essere anche in qualche caso demansionato, sicuramente in molti casi demotivato, per cui è questo che bisognerebbe percorrere, un discorso di professionalità riconosciuta sul campo economicamente e in modo tale che chi lavora in questi ambiti qua, che ha una formazione universitaria e anche complessa, abbia delle soddisfazioni in questo campo, perché diversamente avremo sempre anche meno giovani che vanno a fare questa professione importante per la salute, però se tutti quanti vedono come un infermiere costretto a lavorare, un tecnico di radiologia, pensiamo che devono fare 40 tacchi in una notte, per esempio, cioè veramente neanche una catena di montaggio, è una roba impressionante, è evidente che professionalità si parla sempre meno, nei dibattiti, nei convegni si parla molto di professionalità, di tutti questi bei aggettivi nei confronti dei professionalisti, ma dopo nella sostanza sono veramente maltrattati in alcuni casi. Direttore di Catinara, era il dottor Zalucar e funzionava bene, l'hanno preso uno di Gorizia, ma abbiamo i nostri, vengono da tutto il mondo che fanno direttori, musei, monale varie, ma noi abbiamo anche eccedenza quadriete, perché non mettete il dottor Zalucar, che funzionava benissimo, che era l'ospedale proprio al doc, questo volevo chiedere io, grazie e buona giornata. Buona giornata, buona giornata a lei e dunque insomma è sul dottor Zalucar. Il dottor Zalucar è andato volontariamente o in pensione, per cui non può diventare, che comunque non era il direttore di Catinara, ma era il direttore del pronto soccorso, sicuramente e anche del Dipartimento dell'Emergenza, ma il fatto che sia stato individuato il dottor Cominotto come responsabile organizzativo, in realtà neanche come direttore responsabile organizzativo attraverso un bando che insomma ha partecipato solo lui sostanzialmente, perché il nome era già stabilito, avrà il compito di migliorare l'organizzazione se non altro del pronto soccorso, che ricordiamo non può essere vincolato solo al pronto soccorso, perché il pronto soccorso è l'unica struttura che non può rifiutare nessun tipo di accesso, per cui deve esserci un'organizzazione di rete con il 118, con tutte le strutture, pensiamo anche alle case di riposo, perché negli ultimi mesi è stata fatta una valutazione che molti accessi al pronto soccorso arrivano dalle case di riposo, per cui anche là bisogna iniziare a fare un discorso di collaborazione e di vigilanza anche sulla tipologia di assistenza che viene erogata all'interno delle case di riposo, sicuramente. Della sicurezza degli operatori e dei cittadini abbiamo fatto una segnalazione ben precisa, abbiamo a seguito di tre aggressioni subite da infermieri o colleghi del pronto soccorso, sia di Catinara che del Maggiore, noi abbiamo segnalato questo e successivamente l'amministrazione aziendale aveva emanato una delibera per l'acquisizione e l'installazione di telecamere sia nei punti critici, nei punti che sono stati riscontrati questi episodi. Ad oggi non sappiamo se sono stati ancora installati, quello che preoccupa è proprio il fatto dell'afflusso notevole verso il pronto soccorso perché le ore di attesa possono creare delle situazioni di conflittualità fra personale e cittadini che a volte scaturiscono su delle aggressioni verbali, anche qualche volta hanno subito anche delle aggressioni fisiche e questo sicuramente non dobbiamo aggredire chi ci cura, dobbiamo salvaguardare l'educazione in tutti i casi perché anche il tempo d'attesa non giustifica nessun tipo di reazione di questo tipo qua, per cui il rapporto fra dipendenti, infermieri, operatori sanitari e cittadini deve essere nel massimo del rispetto da entrambe le parti, per cui questo, dopodiché se ci sono le telecamere bene, ma penso che la prima cosa è quella del rispetto fra le parti, insomma fra gli operatori e cittadini. Benissimo, allora con questo sicuramente è condivisibile, ringrazio molto Fabio Potoczni che è per essere stato con noi quest'oggi e lo invito a tornare a trovarci presto per parlare ancora dei temi della sanità che sono molto di interesse. Grazie, grazie a voi, della pazienza. Grazie, grazie davvero.